Approvazione all'unanimità da parte del Consiglio Comunale di Assisi del protocollo di intesa con Gubbio. Interventi e dichiarazioni da parte dei 14 esponenti della massima assise cittadine presenti, tutte favorevoli a questo imprimatur, così l'aveva definito il sindaco Ricci, al lavoro svolto insieme al collega di Gubbio Stirati per arrivare a un'intesa che entrambi i primi cittadini hanno definito storica. È stato proprio il sindaco Ricci a illustrare il protocollo a partire dai ringraziamenti all'omologo Gubbino e al professor Francesco Santi che ha delineato le assonanze storico-francescane tra le città. Ricci ha messo in evidenza anche la forte correlazione sul piano paesaggistico e ambientale tra le due realtà, esaltata e sottolineata in questo ambito la figura di Giovanni Astengo. Centrale sarà dunque il sentiero francescano e l'impegno di valorizzarlo nei confronti del mondo intero, un percorso a sua volta inserito in un ambiente paesaggistico-urbanistico con molte valenze comuni, anch'esse da connotare quale legame specifico. Un altro caposaldo dell'asse Gubbio Assisi è il potenziamento dei collegamenti infrastrutturali con la richiesta di attivazione di una linea diretta di autobus e l'interconnessione con l'aeroporto regionale intitolato al Santo. Ma ci sarà anche da mettere a punto azioni per la promozione turistica, un'agenda annuale di ricorrenze e scambi culturali costanti e continui ad insaldare con piccole iniziative lo spirito di unità e reazione nel nome di due città Assisi e Gubbio che guardano al futuro e si aprono per arricchirsi e restituire al mondo intero un'immagine di bellezza e di autentica storia. Un atto, ha detto il primo cittadino, che è semplice sul piano istituzionale ma assume valore storico culturale di grande significato ed impegno strategico delle due realtà. E oggi questi episodi fondamentali per il quadro francescano trovano una nuova valorizzazione in termini culturali, in termini paesaggistico ambientali e ricordo la valorizzazione del percorso, dell'itinerario, del cammino che unisce francescanamente Assisi con la città di Gubbio, ricordo anche le valenze paesaggistiche urbanistiche che connotano le due città, che hanno delle caratteristiche urbanistiche anche inerenti ai centri storici di particolare assonanza. Nel capogruppo del PD in consiglio, Petti Rossi, la sottolineatura della positività di iniziative di collaborazione con altre città, messe in evidenza anche le somiglianze antropologiche oltre che storiche con il grande attaccamento alla propria identità contenute nelle rispettive massime espressioni del folklore. L'amministrazione comunale ha detto Tardioli, lista civica ha dimostrato come non esistano barriere politiche, due città così visitate dell'Umbria condivideranno tematiche importanti, scambi commerciali e pacchetti integrati.